Una misura rivolta all'inclusione sociale delle persone in difficoltà economica. Questo il SIA sostegno per l'inclusione attiva in misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o donne in gravidanza. Il progetto durerà tre anni e vedrà l'impiego di 490 mila euro. È un sostegno per le famiglie poverissime perché le famiglie che potranno accedere e dal 2 settembre potranno andare al comune di Pescara e farlo ma potranno andare anche negli altri comuni dell'Abruzzo le famiglie dovranno avere un reddito pari o inferiore a 3.000 euro con un minore a carico con un disabile a carico o con una donna in stato di gravidanza. Quindi le famiglie proprio davvero più povere. Purtroppo ce ne sono molte, abbiamo stimato per tutta la regione infatti 17 milioni di euro proprio per queste famiglie poverissime che ripeto verranno aiutate con un sostegno economico ma che a loro volta dovranno seguire un percorso per uscire dalla loro esclusione. Qualche giorno fa abbiamo presentato il progetto Mi impegno per Pescara del valore di 150 mila euro. Oggi presentiamo questo progetto di inclusione attiva 500 mila euro nel triennio. Fra qualche settimana parteciperemo al bando di Abruzzo Inclusione della regione Abruzzo. Tutti questi progetti sono finalizzati a fare in modo che all'interno delle famiglie o delle singole persone vi sia la possibilità di ritornare ad avere un percorso lavorativo per cui si potrà accedere a questi fondi stipulando insieme ai servizi sociali del Comune un protocollo d'intesa e un percorso perché queste persone utilizzino queste disponibilità ma abbiano volontà di volersi impegnare nel fare qualcosa. Grazie. Grazie.